Il Policlinico di Bari è una città per le dimensioni, è veramente un luogo molto molto importante, è un intero quartiere del capoluogo di regione e noi facciamo oggi, completiamo e presentiamo interventi radicali che consentiranno da un lato un abbattimento significativo della bolletta elettrica, sono dolori quando arriva la bolletta, quando devi riscaldare o temperare centinaia e centinaia di ambienti che accolgono migliaia e migliaia di persone ogni giorno. Gli interventi riguardano innanzitutto l'efficientamento energetico a partire dagli infissi, dalla qualità degli infissi, dagli interventi che globalmente attraversano per intero il Policlinico, che riguardano il teleraffrescamento, che riguardano l'illuminazione, cioè tutto ciò che comporta inquinamento ambientale e la lievitazione della bolletta, attraverso questi interventi viene ammortizzato. Consumiamo meno pianeta e pagheremo molto meno la bolletta e il Policlinico di Bari da questo punto di vista diventa un laboratorio della modernità buona, quella che ci fa vivere in pace con la natura e quella che anche ci aiuta a essere più razionali nelle spese.